Bene, eccoci qua con il nostro nuovo video. Oggi andremo a fare proprio qualcosa di pazzo. Come vedrete abbiamo legato un povero sacchiotto inglese a un metro. Ecco, ora c'è il nostro pianista Barreca che ci guiderà. Ecco, abbiamo un metro di venti metri. Ecco, e ora lo caleremo giù dal balcone. Guardiamo Barry. Buona raga. Ok, apriamo. E ora lo caliamo dolcemente giù. Vai. Oddio! Orcazzola! Bene. Come vedete si è impigliato. Ora noi lo tireremo su. Sai, tira Barry. Vai, vai, tira. Vai, tira la carucola. Tira! Tira, non mandarlo. Tira, non mandarlo. Non manderò proprio. Non mandarlo. No, fermo! Fermo, fermo che si sta per impigliare sotto il balcone. Ok, ragazzi, questo qui era soltanto il test. Questo povero sacchiotto dovrà fare anche la prova giù proprio qui in dia 22 luglio. E ci sono le persone laggiù. Ok. Ok, e avvertimento ricordatevi di non farlo mai a casa se non volete rischiare di essere denunciati. Cioè, in realtà non ci denunciano però... E' probabile che qualcuno non lo gradirà. Ecco. Devo ricordare. Aspetta. Ok, finché c'è peso... Oh, fermo. No, Barry, non farlo volare giù. Come sta andando? Bene, aspetta, fermo, bloccalo. Tiralo dentro. Tiralo dentro! Ecco, il nostro Barry, speriamo non lo lascerà. Eccolo, come vediamo, sta andando giù. Dai, oh, continua a farlo andare dolcemente, Barry. No, no, sta ferma, sta ferma. Fallo andare che è quasi in mezzo alla frutta. Spostalo, spostalo. Oh, madre. Aiuto, guardate su. Non ci credo. Oddio. Forza, fallo scendere dolcemente. Vai, vai, vai. Dai, fallo andare. Siete che lo stai tenendo? Ok. Ok, 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 ok. Oddio, 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 oddio Però tirano e poi dopo guardiamo chi abbocca. Non viene, non viene, raga, non viene tu. Non viene. Non viene tu. Oh mio Dio. Ok, bene, se volete continuare a seguirci... Iscrivetevi al canale. Non abbiamo un canale, però visto che il tempo è quasi finito, ok. No, no, non tirarlo su Barry, adesso faremo la seconda parte. Lo tiro su?